Si è chiuso ufficialmente sabato 10 maggio l'anno accademico 2013-2014 dell'Unitredito Lentino. La cerimonia si è svolta nell'auditorium della Biblioteca Filefica della Città e nell'occasione tutti i direttori dei corsi che volontariamente hanno reso possibile la progettazione e l'esecuzione del lavoro didattico hanno ricevuto un incomio. Dopo la grande partecipazione ai corsi registrati anche quest'anno, nel corso del pomeriggio è stato presentato anche il programma del nuovo anno accademico che prenderà inizio ad ottobre prossimo. Proprio a dimostrazione di quanto è stato svolto nel corso dell'anno, alle grotte di Palazzo San Gallo è stata inaugurata una mostra collettiva del materiale prodotto nei laboratori di pittura, ceramica, decorazione, fotografia, scultura linea, restauro ligno, bigiotteria e monili, maglia, macramè, uncinetto e chiacchierino. La mostra rimarrà aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a domenica 18 maggio e il programma dell'anno accademico 2014-2015 sarà reperibile in copia cartacea nei locali della mostra stessa e scaricabile dal sito www.unitrettolentino.blogspot.it